Ieri durante il Consiglio Comunale è stata approvata all'unanimità la proposta dell'Assessore Piaia di apportare modifiche all'articolo 2, commi 4 e 5 dello Statuto del Comune. Le modifiche sono a favore del diritto delle donne alla pari dignità nella vita pubblica e nel lavoro e contro ogni discriminazione, violenza o sfruttamento legato al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua o alla religione. Assessore Piaia, lei è stata la promotrice di questa modifica all'articolo 4 e 5 dello Statuto del Comune. Quali sono i punti principali? I punti principali li abbiamo assunti dall'orientamento che il Consiglio Comunale attraverso diversi atti che nel corso di questa legislatura ha sostenuto e per l'attività specifica che l'assessorato alle pari opportunità ha sviluppato in questi anni, abbiamo sentito l'esigenza di riportare questi orientamenti all'interno del nostro Statuto Comunale. Una visione delle pari opportunità che vanno oltre le pari opportunità per riconoscere, oltre a differenza primaria che è quella fra uomini e donne, tutte le altre forme di differenze e di possibili potenziali discriminazioni. La lettura di genere ci ha consentito di valorizzare le differenze e al contempo di poter portare l'idea dell'uguaglianza in una dimensione ben più allargata che è quella del rispetto anche delle soggettività altre. I punti salienti di questa modifica dello Statuto sono quelli che vanno in un qualche modo a proteggere e tutelare la donna da quelle che potrebbero essere incursioni nella vita privata quanto anche nell'immagine pubblica che la donna ha diritto di ricevere in quanto ha un ruolo sempre più importante nella società. Quindi l'esigenza di ammorbidire gli stereotipi attraverso delle iniziative che si devono porre su più livelli, compreso quello culturale, quello che deve incidere anche sul potenziamento della funzione e presenza della donna negli spazi decisionali pubblici, che significa non solo una quota di garanzie, ma significa possedere l'esperienza femminile nell'ambito di quelle che sono le decisioni della vita collettiva. Poi in modo particolare tutto il tema della violenza alle donne l'abbiamo cercato di portare dentro la dimensione anche di un bene pubblico che va tutelato. La violenza alle donne non è un fatto privato, incide fortemente sulla qualità della vita relazionale, sociale, economica del nostro Paese, quindi un bene che va tutelato come interesse proprio del Comune.